Una barchetta in un mare di carta è il nome del progetto promosso da Passaggi Cultura in occasione della settima edizione di Passaggi Festival della Saggistica in programma a Fano dal 24 al 30 giugno. Destinatari del progetto i bambini delle scuole dell'infanzia e primarie del circolo didattico Fano San Lazzaro e i commercianti del centro storico. Un progetto appunto nasce dalla collaborazione tra l'associazione Passaggi Cultura e il nostro circolo didattico. Infatti le quattro scuole primarie del nostro circolo e la scuola dell'infanzia Vago Colle hanno realizzato in questi giorni delle barchette di carta sulle quali sono anche riportate delle immagini oppure delle frasi estrapolate dalle letture che loro hanno svolto durante tutto l'anno scolastico e con una grande attenzione anche all'ambiente in quanto queste barchette sono state realizzate con materiali di riciclo e di riuso. Il progetto volto a promuovere il periodo antecedente e l'inizio del festival ha voluto rafforzare la stretta connessione tra la vita scolastica e quella fuori dagli ambienti didattici. Per questa iniziativa quanti bambini sono stati coinvolti? I bambini coinvolti sono stati circa 500 del nostro circolo appartenenti ai vari plessi che vanno dalla scuola dell'infanzia di Vago Colle, la scuola primaria Montessori, scuola primaria Raggi e scuola primaria Corridoni. Per quanto riguarda l'iniziativa e il progetto, dal punto di vista tecnico, da come è nata l'idea? Allora l'idea è nata grazie appunto ad Annalisa Pucci che ce l'ha proposto e subito l'idea ci è piaciuta, quindi abbiamo contattato la dirigente e tutti gli alunni delle classi per realizzare l'allestimento delle vetrine del centro storico nel periodo precedente al festival e per tutta la sua durata.